buongiorno cari amiche iniziamo con capi per la prossima stagione autunno inverno con capi versatili e pratici come vedete indosso un trench in questo colore chiaro comodissimo e pratico da usare con i primi freddi e vedete anche con un pantalone elasticizzato ok con la sua t-shirtina consueta rigatta che solitamente noi vi abbiniamo che ci piace tanto e i cappelli invece che vedete sono disponibili così sfrangiati con le rotture proprio sul bordo sia in versione burro che in versione nera partiamo con i vostri ragazzi i vostri boy o anche le vostre ragazze le vostre tin con questi capi di un brand italiano stone island dove vedete dei capi di felpa così una maglia di caldo cotone o in felpa in questi colori bellissimi molto luminosi vedete anche molto bello anche questo sia da boy che da girl da abbinare in questo caso ve l'ho proposto con la camicia di jeans vedete così elasticizzata e il suo jeans di nakit che è un brand sartoria partonopea napoletana oppure andiamo in questo caldo cotone quindi comodo per tutto l'inverno anche per chi non vuole la lana nel colore blu con la manica a reglan oppure anche in questo lana molto molto leggera che quindi non pizzica proprio per i primi freddi in blu sempre nevi oppure andiamo nel consueto pantalone in felpa ok in blu disponibile anche in verde oppure andiamo in questa felpa con il cappuccio vedete sempre in blu in blu nevi oppure con questa felpa chiara questi color proprio gesso questi colori tortora questa tra l'altro una felpa che sembra quasi una maglia molto elasticizzata confortevolissima e c'è infatti nello stesso colore così anche la maglia di caldo cotone come quella blu che vi ho mostrato prima poi andiamo nelle felpe invece così con la cerniera sempre nel verde militare oppure nel colore lime oppure andiamo in questi color gesso color pietra vedete è un bianco grigio ghiaccio praticamente disponibile sempre fino alle taglie grandi e volevo concludervi con il solito modello consueto che usa stone island che è bello affiattito quindi non ingombra il guscio come vedete fatto con dei quei materiali antibatterici che usa che trattiene il calore corporee quindi non vi fa sudare ma tiene appunto bene la temperatura del del corpo rimanendo sempre belli caldi e potete andare anche con temperature più fredde quindi molto bello un classico blu un must di sempre vi aspettiamo in negozio con tutte le nuove collezioni di tutti i nostri brand per la nuova stagione attacco stagione per i primi giorni di scuola buona giornata a tutti ciao